Nella Pinacoteca di Milano, un po' di tempo fa, venne ripreso lo spirito di una donna, grazie al servizio di telecamere a circuito chiuso del museo. Inizialmente si pensò dei ladri. Gli addetti analizzarono bene l'immagine e si trattava di una figura di donna quasi in trasparenza. Per restare aggiornato iscriviti al canale, condividi i video nei social e attiva le notifiche per essere sempre informato.